Ha preso il via ieri mattina un nuovo viaggio di lettura nell'ambito del progetto, leggendo in steia del comune di Polla, vincitore del bando Città che legge 2020. Si chiama a leggere l'amore a scuola e in radio e coinvolgerà gli istituti superiori del Vallo di Diano. A dare il via all'iniziativa, le alunne e gli alunni delle classi quinta A, B, C e quarta Q del liceo Pisacane di Padula, con una lezione di lettura interpretata guidati da Veronica Delia, l'attrice di Atena Lucana, diplomata all'Accademia d'Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli, che ha lavorato in teatro con Davide Iodice, Mimmo Borrelli, Lello Arena e in tv nel commissario Ricciardi e Imma Tataranni. Gli studenti delle scuole coinvolte selezioneranno insieme ai docenti dei brani dedicati all'amore, da leggere ad alta voce e da registrare con il proprio smartphone. Prima, stimolati attraverso un incontro con l'attrice Veronica Delia, che fornisce gli input per poter leggere al meglio il brano scelto. Da dedicare ad un amico, ad un'amica, al fidanzato, alla fidanzata, alla mamma, al papà. I migliori podcast raccolti saranno selezionati e mandati in onda su una radio locale. Il primo incontro si è svolto ieri mattina al liceo scientifico Pisacane di Padula. Oltre 60 ragazzi hanno avuto modo di divertirsi con la voce. Un plauso alle ragazze e ai ragazzi del liceo scientifico Pisacane di Padula per aver dato inizio, con autentico coinvolgimento alle attività relative a leggere l'amore a scuola e radio, dicono da Polla. Un sincero apprezzamento e gratitudine all'attrice Veronica Delia per il fondamentale contributo prestato e concludono grazie ai dirigenti e ai docenti che hanno seguito e condiviso il progetto.